Una delle cose di cui è più necessario essere muniti in questo momento è la pazienza, cioè avere la pazienza di non perdere la fiducia, di non perdere la fiducia in un grande rito collettivo che è quello dello spettacolo dal vivo e dell'audiovisivo, quando sarà il momento di ripartire davvero col piede giusto perché potremo farlo, cercare di riabituare le persone a tornare nelle sale, nei cinema, nei teatri, perché questi luoghi sono dei luoghi in cui si celebra un rito collettivo che è fatto attraverso i corpi, quindi io credo che la cosa in questo momento più necessaria per quello che riguarda noi è proprio quella di non perdere l'abitudine a vivere lo spettacolo e tutto quello che c'è intorno come qualcosa che si fa insieme e poi l'altra cosa fondamentale è sostenere intere categorie di lavoratori che in questo momento sono in grandissima difficoltà con interventi che il governo sta già mettendo in atto ma che devono essere sempre di più interventi strutturali, non soltanto emergenziali perché poi quando si tratterà di ripartire bisognerà davvero ripartire col piede giusto.